Il Mediterraneo continua ad essere interessato da un promontorio subtropicale il quale convoia aria molto calda sulla nostra penisola. Per avere maggiori dettagli sulla situazione attuale del tempo abbiamo contattato il meteorologo Giuseppe Stabile che ci fa una panoramica di come saranno le temperature nei prossimi giorni. Tutto il bacino del Mediterraneo continua ad essere interessato da un campo di alta pressione di matrice africana che determina condizioni di tempo stabile con temperatura al di sopra della media del periodo. Nelle prossime ore il campo anticiclonico subirà un lieve cedimento sul suo bordo occidentale ma gli effetti sulla nostra regione saranno modesti. Tra domani e venerdì invece assisteremo ad una forte espansione del promontorio africano interessando maggiormente le nostre regioni centro-meridionali dove nelle giornate di venerdì e sabato l'ondata di caldo raggiungerà l'apice. Aumenterà inoltre anche l'umidità relativa con conseguente disagio fisico soprattutto per i bambini e le persone anziane. E per le giornate di venerdì e sabato come si presenteranno le temperature Giuseppe? Per domani giovedì 13 giugno avremo cielo poco nuvoloso ovunque con qualche addensamento nelle aree montuose, temperature stazionarie con tendenza ad aumentare dal pomeriggio, venti deboli mediamente occidentali e mare quasi calmo. Venerdì 14 condizioni di cielo sereno ovunque con velature in transito. Tuttavia al primo mattino sarà possibile la formazione di nubi basse lungo la costa in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. Temperature in aumento con valori che nelle aree interne raggiungeranno i 37-38 gradi centigradi fino a sfiorare i 40 gradi su alcune località del Casertano e Beneventano. Aumenterà anche il tasso di umidità con conseguente aumento del disagio fisico legato all'AFA, venti deboli generalmente da sud e mari calmi o quasi calmi. Poche variazioni anche per la giornata di sabato 15 giugno durante la quale continuerà a fare caldo con accentuazione dell'AFA. Da domenica qualcosa cambierà o avremo sempre la stessa situazione? Da domenica 16 giugno l'anticiclone africano inizierà a cedere a partire dalle regioni centro-settenzionali. Sulla nostra regione gli effetti verranno avvertiti maggiormente nei primi giorni della prossima settimana con temperature che si riporteranno in linea con la media del periodo. Ci sarà la possibilità inoltre di qualche episodio temporalesco pomeridiano nelle aree montose con possibili sconfinamenti fin su alcuni tratti di costa. Passeremo dunque dai 37-38 gradi centigradi ai 28-30 gradi centigradi che sono temperature normali per questo periodo. Quindi non avremo nessuna rinfrescata degna di nota. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it